www.feyyaz.tv 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 Grazie a tutti E' partito velocissimo! 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 perché sennò è tale se è vicino vai bene anche lui è partito con l'artone e la portata cambia quasi e la portata è tutto carico adesso che riesco in wait vado a fare noi gaiammo dai da GAR, subi di senti la subita preguita abbonati av Adesquisitze vado a scendere va adesquisitze armi vado a fare amici vado a stare vado a scendere dai da GAR sui G senti la subita preguita a scendere si vola ora andiamo a Luce Nard quando vuole partire E vai che andiamo! Spingi a fondo sto Vario Matic! 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 Sì, vado signori, dove andiamo? Vincio il primo, vado dai casi! Quasi! Sì, è stato liberato, l'ora è la Chiara, scelto per questa, Siavese, meraventici, in Wings, per non essere così, va fortissimo! L'ora è il suo italiano! Sì, è stato liberato, l'ora è la Chiara, scelto per la parte del Vigilato, dai che andiamo, spingi a fondo sulla voletà il gas ragazzi, cavalli americani qua motore, stelle strisce, qua si vora ma lo prendiamo anche qui i cavalli americani, qui si va velocissimo, qui si galoppa vedremo sto cervo cosa riesce a fare vai che partito, vai Teo e io non ce lo faccio a che era un passo, la stessa è un po' di ore, via con ore ok 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 tutto pronto, Fiat 1000 quando vuole può partire, teniamoci verde, la che andiamo signori fate video E vai, che si parte E la metto da gas, lui arriva Alla provista di Alessandro Il primo è fatto per chilometri E l'Icegno Bostini Un veterano, F850 Vai che viene Alla provista di Alessandro Alla provista di Alessandro Alla provista di Alessandro Alla provista di Alessandro Giondeer 70310R Giondeer 310 CV Frattore costruito USI Waterloo Qua frattore stelle strisce Ora prendiamo il senere che quando vuole può partire Vai che andiamo, vai Boris Fingi a fondo sulla manetta del gas Da che andiamo? Sul tetone! Non parlare con Angela che ti sconcentra Bambini La domanda del buon bambino Diero giù divestare La domanda del buon bambino non partire La domanda del buon bambino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.